Capitano Leonarduzzi, sei qui questa volta per prenderti anche i meriti, uno di una grandissima partita. Due, Juan Antonio poco fa ha detto abbiamo un grande capitano che ha trainato il gruppo, tre e non da poco, il gol è il primo se non sbagliamo in C1. Sì, sono molto contento al di là del mio gol, della prestazione della squadra che è riuscito a reagire dopo uno svantaggio di 4-2 il primo tempo e penso che non moltissime squadre riescono a recuperare con questo carattere, con questa voglia un risultato del genere. Quindi un ringraziamento a tutti, il mister, lo staff, tutti quanti, i miei compagni che sono stati straordinari a tutti perché abbiamo portato a casa una vittoria straordinaria oggi. Senti Omar, che cosa è successo nel primo tempo e cosa è successo invece nella ripresa? Abbiamo visto che vi caricavate moltissimo ad inizio del secondo tempo. Sì, ma guarda nel primo tempo purtroppo c'era quella sensazione che quando loro venivano in avanti potevano fare gol in qualsiasi momento. C'era questa sensazione qua che sinceramente è anche difficile da spiegare, che ogni tanto purtroppo nel calcio capita. Per fortuna però siamo stati veramente molto bravi, ripeto, a mantenere la calma. Anche negli spogliatoi il mister ci ha parlato tranquillamente, ci siamo parlati tranquillamente perché sapevamo che potevamo veramente riprendere in mano questa partita e ce l'abbiamo fatta. Una dedica particolare allora per questo gol e per questa vittoria? Beh, il gol sicuramente va alla mia piccola Asia e la partita e la vittoria va dedicata a tutti noi.